un ciao a tutti benvenuti a un altro itinerario dei sentieri di black sono nuovamente in compagnia degli amici Marco e Paolo di itinerario MTB con i quali condividerò oggi un altro bellissimo itinerario oggi siamo nel Canavese ai piedi della Valle Sacra per fare un giro di circa 37 chilometri 1500 metri di slivello che ci vedrà percorrere il parco del Monti Pelati e arrivare fino su al Monte Calvo un giro che arriverà a circa 1300-1400 di quota seguiteci anche nell'itinerario di oggi black insieme agli amici Paolo e Marco di itinerario MTB garantia di buon giro e ve lo garantisco anch'io con loro sicuramente il giro sarà fantastico anche oggi Grazie a tutti Grazie per la visione Dura oggi, salitone torse che si alternano tra il 16 e il 20% Siamo quasi arrivati al Monte Calvo dove penso che si apriranno panorami veramente belli Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti